A seguire l'Andino Rex 4 120GT RoboShift, 100% medio metali, presso gli stabilimenti di fabbrica, il modello di categoria 4 sostesa, sostesa come la sala interiore, la sensore di scherzo per un comfort di livello superiore in tutto, è spesso al P111 con un motore da 120.000 FTP, ma è un cambio semifario su P30.000, con una punzione di euro per prela, e quindi l'impronto idraulico pericolata, c'era un'applicazione, e la nuova console di Voreco è qui in versione efficiente con joystick multi-concione. L'OF-RUSD NEXOS 260, questo motore FTP, da 120TB del alsi, la cabina è rinversi e tenuta, Il cambio è avvenuto verso la Revership con velocità massima di 40 km orari. La velocità, già disponibile a 1.700 km motori, in modalità EPE, perfetto con l'operazione di spostamento verso il piazzale aziendale o su strada. Grazie a tutti.